No, Batistuta, il mio capitano, io e il leone, non camminavo più, ma che vuoi dire? A me se lo ricorda Gabriele Omar Batistuta? Se mi ricordo, magari se ci fosse un altro, non queste 10 ore. Un bel ricordo. Bellissimo ricordo. Batistuta è stato un grandissimo giocatore, ma la Fiorentina ce ne vorrebbe 5 di Batistuta, per fare una squadra decente. Batico! 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 Ora comunque ha avuto dei problemi, non so se l'ha sentito, se ha recentemente sentito. C'era la prima della caviglia. Si, no, ai ginocchi, ha dichiarato che per un periodo non camminava più. Certo che mi dispiace, ma anche se fosse un altro che si chiamasse Pincopallino, mi dispiacerebbe lo stesso, capito? Batistuta l'ho sempre ammirato perché è un grande campione, simpatico e faccio tanti auguri di pronta guarigione, quello sì, senz'altro. Auguri di pronta e prossima guarigione a Batistuta. Posso dire in bocca al lupo e fatti coraggio perché nella vita può succedere di tutto, io ne so qualcosa perché ci sono passato con il mio amore. senza parola senza parole E va bene così senza parole E che vivi così Senza amore E che vivi così Senza amore